Spesso si tende a pensare che più uno stadio sia grande, più attiri i tifosi. In realtà, come ci dicono i numeri, non è così. Quello italiano infatti è uno tra i primi campionati a livello di capienza degli stati. Ma quello che ci interessa davvero è un altro dato. L'affluenza media allo stadio. L'Italia da questo punto di vista scivola in fondo alle classifiche europee. Nella stagione 2022-2023 gli stati italiani sono stati riempiti in media per il 77,1% della loro capienza massima. Nella Premier League, invece, la media sale vertiginosamente e arriva al 97,3%. Anche la Bundesliga tedesca si difende. La percentuale di riempimento è del 95,6%. Questo ci dice che in questi due campionati, in quasi tutte le partite, i tifosi vanno a vedere la loro squadra preferita. E riempiono quasi tutto lo stadio. Non soltanto nelle partite più importanti. Per la Liga Spagnola questa percentuale scende all'82%. Mentre in fondo alla classifica dei top campionati, insieme alla Serie A, troviamo la Ligue 1 francese con il 78,8%. Di questo passo Italia e Francia rischiano di rimanere indietro rispetto agli altri campionati europei.